Un quiz a premi, una gara fra classi per imparare le regole più importanti della sicurezza stradale. Così, divertendosi e interagendo, i ragazzi delle scuole medieviane di Viareggio hanno fatto educazione stradale grazie al progetto di AC Lucca dal titolo Testa sulle spalle, piedi sulle strisce. L'iniziativa, pensata proprio dalla delegazione lucchese del club, era rivolta agli studenti delle seconde che hanno risposto alle domande sulle regole fondamentali della strada, stimolati poi a discutere e riflettere sui comportamenti giusti da tenere. Anche solo andando a piedi o in bici. Siamo convinti naturalmente che l'importante è lasciare una pillola formativa perché poi queste persone, questi ragazzi ancora giovani che non hanno ancora la patente diventino poi un domani gli ambasciatori della sicurezza. Abbiamo visto i dati sugli incidenti qualche giorno fa e siamo convinti che l'unica strada perché quelli dati così spaventosi non siano più reali. Quindi bisogna farlo attraverso l'educazione e quindi l'AC Lucca lo fa attraverso questi interventi formativi. I corsi di AC Lucca proseguono a novembre con le classi terze che affronteranno anche il tema dell'alcol e la guida in stato di ebrezza. Sono molto ricettivi e le cose che vengono fatte a scuola, estracurricolari diciamo, sono molto interessati i ragazzi perché hanno molta attenzione e quindi le cose che vengono fatte rimangono poi nel corso del tempo e le riportano anche a casa.